Prima di cominciare con questo video sappiate che ho registrato poco fa Ah si, non avevo capito dove volevi andare a parare Il suo punto di vista su Roma Juventus Lo pubblichiamo domani alle 14 circa 14, 14 e 35 Ci sono degli spunti particolarmente importanti Perché abbiamo parlato di una questione che poi è uscita fuori alla fine della partita Esatto Detto questo, ciao ben ritrovati Inter-Chievo-Verona attualmente sul punteggio di 2-0 Partita completamente in controllo dell'Inter Assolutamente sì Questo è un risultato che va ad inguagliare ma già lo sapevamo Quelle che sono le mire della Roma ma anche del Milan Sì perché con questa vittoria l'Inter si riappropria del terzo posto a 66 punti L'Atalanta quindi riscala al quarto a 65 Milan e Roma stanno a guardare a 62 Appagliate con il Milan quinto per vedere gli scontri diretti Ecco quindi a parità dei punti eventualmente a parità dei punti tutti e due al quarto posto Ci sopravvanzerebbe Ecco quindi la nostra situazione è particolarmente grave Stasera però c'è da dire la verità La partita ci ha avuto ben poco da dire Chievo-Retrocesso che per carità fino a poco tempo fa stavano sul punteggio di 1-0 anche con un espulso Qualcosa hanno provato a fare ma ragazzi la differenza a livello tecnico a livello tattico Alla fine si è fatta sentire Ha prevalso Politano ha fatto un bel gol Eppure Perisic non l'ha fatto brutto Beh non è stato un brutto gol No effettivamente no Comunque apre le marcature Politano e poi proprio Perisic Chiude definitivamente i conti Come la vedi tu la lotta alla Champions League Perché noi ieri abbiamo fatto un mezzo miracolo Perché comunque abbiamo vinto con la Juventus Riuscii a vincere con la Juventus una cosa di tutti i giorni Ma ne parliamo domani di quello No infatti stavo puntando Sono 12 minuti del video Stai elaborando in questo momento Stavo puntando sul calendario perché Allora vedo Milan-Frosinone Quindi Milan potrebbe avere già tre punti in tasca tra virgolette Napoli-Inter la prossima quindi non semplicissima Juventus-Atalanta altra partita che potrebbe riservare sorprese E Sassuolo-Roma Pure Sassuolo-Roma ragazzi non è una partita facile Per come sta giocando quest'anno il Sassuolo Poi è una trasferta Esatto andando a guardare pure il Torino Che non riesco a trovare Eccolo con l'Empoli Non è facile manco quella Non è facile manco quella E la Lazio col Bologna in casa Bologna che ha vinto stasera Gli serve almeno un altro punto per essere sicuro della salvezza Secondo me te dico come andrà alla fine Se vuoi dire l'ultima giornata e poi te dico quello che succederà Infatti andiamo a guardare l'ultima perché stiamo Inter-Empoli Quindi Empoli ancora decisiva Che se sta a giocare la salvezza per loro potrebbe essere decisiva Torino-Lazio scontro diretto Poi abbiamo Spal-Milan Roma-Parma e Atalanta-Sassuolo Roma-Parma e Atalanta-Sassuolo Secondo me alla fine l'Inter arriverà a terza L'Atalanta arriverà a quarta O al limite viceversa Non più di quello Probabilmente Roma e Milan non lo so Le vinceranno entrambe tutte e due le prossime Boh però secondo me Comunque l'Europa League Se la prenderanno Probabilmente Probabilmente Una tra Roma-Milan-Torino E Lazio ancora Diciamo che è tutto aperto Boh Ma a noi ci interessa più la Champions Che l'Europa League ragazzi Secondo me Inter-Atalanta Se le porteranno a casa Mi auguro di no da tifoso della Roma Ovviamente spero che la squadra mia Ci arrivi Anche perché per noi L'ho detto al post partita di ieri De Roma-Juventus Se noi ci vendiamo già i pezzi pregiati Quando entriamo in Champions Figuratevi Quello che cazzo Facciamo se non dovessimo in tracce Sì E soprattutto Chi ci viene ad allenare la Roma? Non lo so Però comunque Penso che Tra queste L'Inter Forse è quella Che c'ha Non dico quasi la certezza Del posto in Champions Ma dopo la vittoria di stasera Avere quattro punti di vantaggio Sul quinto posto A due giornate alla fine Mi sembra un vantaggio abbastanza assicurante Diciamo che anche un pareggio con Napoli Gli potrebbe bastare Anche perché Napoli Non c'ha veramente più nulla da dire In questo campionale Per quanto l'Empoli Possa avere fame Che si deve salvare E tutti i discorsi annessi La differenza è tanta Quindi L'Inter secondo me C'ha il match point Proprio per la Champions Vi lasciamo un sondaggio In alto a destra In questo momento In cui vi chiederemo Chi andrà secondo voi In Champions League E metteremo ovviamente Inter, Atalanta, Milan, Roma E Torino Perché solo 5 Ne possiamo mettere nel sondaggio Eh sì Ma anche perché Sto vedendo la Lazio Per la Champions Ragazzi no No Sta a meno 7 Dalla Atalanta Quindi per la Champions Non più Per l'Europa League Assolutamente sì Quindi noi metteremo Ste squadre Voi mettete quella Che secondo voi Ci andrà sicuramente Voglio vedere il sondaggio A quanto arriva dei percentuali Giusto per capire Secondo voi Chi è quella Che ci arriverà più facilmente Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al nostro canale Qualora non è ancora fatta Per noi stasera è una disfatta Però è giusto così Perché avete meritato Cari tifosi dell'Inter Di vincere questa partita Assolutamente sì De conseguenza Non c'ho altro da aggiungere Manco io ragazzi Quindi vi salutiamo Buonanotte A domani